Ciao bambini, come state? Sono sempre io la maestra Katia. Oggi vi propongo un gioco bellissimo, un gioco d'arte che si chiama Disegna. È un gioco di Hervé Tullet, ve lo ricordate vero? Grazie a un aiutante oggi pescheremo un po' di carte e vedremo che bellissimo quadro riusciremo a fare. Pronti? Preparatevi penarelli, matite, cere che cominciamo tutti insieme. Ciao bambini ed eccoci qua pronti ad iniziare il nostro gioco con le carte ma qui ad aiutarmi c'è un aiutante speciale. Ciao! Che mi darà una mano con i colori. Pronti che pesco la prima carta? Allora, la prima carta dice in ordine. Disegnare tanti puntini di diversi colori in ordine. Provateci anche voi, mi raccomando. Prendete tanti colori e provate a farli in ordine, come indica la carta. ottimo aiutante. Adesso peschiamo un'altra carta. Adesso tante linee colorate come vuoi. Dai bambini, provate anche voi. Segni, riccioli, cerchietti, tutte le cose più pazze che vi vengono in mente. peschiamo un'altra carta adesso. Attenzione, attenzione. Disegnate dei puntini minuscoli. minuscoli, minuscoli bambini vuol dire piccoli, piccoli, piccoli. pronti con un'altra carta? Magnifico! Adesso con i puntini minuscoli che abbiamo imparato, bambini, cercate di fare come un piccolo sole. Mettete tanti puntini vicini e le linee intorno. complimenti aiutante. pronti bambini per un'altra carta? Adesso questa carta dice dentro. Fate un cerchio con dentro tanti puntini, tutti colorati. un altro colore dai aiutante. Cos'è? così viene bello colorato colorato. Siete pronti bambini per l'ultima carta? L'ultima carta dice attorno. disegnate un cerchio e tutti i puntini attorno. Guardate, guardate bene com'è fatta questa carta. Provate anche voi dai. Un bel cerchio e intorno al cerchio tanti puntini. avete visto che bella opera d'arte che stiamo facendo? Sono sicura che anche la vostra è così bella. Mi raccomando, quando l'avete fatta, fate fare alla mamma e al papà una bellissima foto. Così ce la spedite e possiamo vederla anche noi. Grazie bambini, ci vediamo la prossima volta con altre carte nuove e un'altra opera d'arte da fare. Ciao, a presto! Ciao!